ora lo spezia che prova c'è contro break di stefan radu 402 partite per lui radu lancia bene cire mobile cire mobile uno contro uno si accentra per eira la palla al centro correa ma com'è possibile com'è possibile attenzione ancora lo spezia pericoloso che poi attenzione non mi sta a piacere nemmeno l'azzarico di unità attenzione parata di reina su tiro di attenzione 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 pericoloso ancora lo spezia il cross e reina la blocca meno male che radu ci mette la cattiveria recupera valla con la lazio immobile lancia correa correa non ci credo non ci credo non è possibile due balle e pone due stronzate di correa attenzione contro brecca della lazio correa questa è la dirgazione sua c'è lazzari solo lazzari servito lazzari lazzari e che cavolo il partire che non segna davvero tante guarda questo che fortuna anzolà casca amaro dice c'è il controllo gli da una mano lazzari attenzione guarda ragazzi gol da cineteca dello spezzi anche se in maniera meno precisa l'ho detto la lazio che è successo attenzione la lazio reclama la lazio reclama qualcosa ero distratto attenzione fermi un attimo caesedo caesedo per fuori per fuori per favore per favore che hai seto 88esimo caesedo prende la ricorsa il tiro ciao 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 ciao